...a contatto, abbiamo un po' le fatte apposta. Sono gli urli di battaglia. C'è cinque giocatori, c'è il giocatore di tutti questi? Sì. Sì, non ce la riserva. Sì, non c'è il giocatore, non c'è il giocatore. Sì, non c'è il giocatore. Sì, non c'è il giocatore. è partito ma dai quanto li favo ieri? ieri? mi ha detto ma stai? sto bene mi ho chiacchierato un po' poi ti faccio sentire alle ragazze guarda, non sto come fa niente, lo stanco, lavoro, vedi attimo, lavoro, zero non ci credo bene, allora te lo dico troppo dalla fine della sera insomma, Marco, non ti arrabbiai ho detto te l'ho trovato tranquilla ma speriamo speriamo che cresca ma te Marco un po' non ti piace? non so, non so 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 Sono un po' mosci. Sono un po' mosci, sono un po' mosci. Sono un po' mosci, sono un po' mosci. Sono un po' mosci. Grazie. 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 Era uno dei nostri manca. Non c'era solo di pizza? Senta solo di pizza? Senta solo di pizza. Senta solo di pizza. Senta solo di pizza. Senta solo di pizza. No. 5 minuti. E se poi di pizza? La compra io. Vabbè. Guarda che devo mangiare? Dobbiamo mangiare? Perché... Voi si deve andare a mangiare la pizza? Penso sì che andremo a mangiare fuori. Cioè, non so se... Grazie. 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 Io e Lorenzo, sì. Autoprodotta ce la paghiamo. 94.1, 94.100. Come vuoi? BBS e Master Radio. BBS e LR? Facciamo musica? Facciamo musica che ci piace, facciamo un'ora ogni mercoledì. Autoprodotta, autofinanziata, però... Come prima c'è? 25.000 lire l'ora. – Quindi è tazzo? – No, no, infatti, poi in due… Dovete pubblicare il vostro orario? Ovviamente, insomma, non faccio venire di meno. Non lo so. Noi dobbiamo trovare qualcuno che ci sponsorizza, almeno per i dischi. Infatti, dobbiamo andare da Just Like Heaven, che sta a Tor Pignattara, che è un negozio in cui noi compriamo sempre i dischi. Vogliamo chiedere a loro se ci vogliono spiegare il finanziario. Non parlare a tutti voi? Perché è grezza. Dalle 9 alle 10 di sera. Ti giuro. Mi piacerà quella musica. 9, 4 e 100. Dai, te ne metto una e te la dedico. Sì, te ne metto una, fighissima, è proprio scritta su di te. Sì, sì. Sì, sì. Grazie. 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 Bellissimo. 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 Bello. Infatti ha fatto un rimbalzo. Bellissimo. E come stanno? No, mi sa di più, stanno almeno... Quanto stanno? Più o meno. Lo sapete quanto stanno? 5 o 1. E poi ci sono due. Ci trovo... Si, si si, si, si... Non ti preoccupare. ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.